Il presidente della regione toscana Eugenio Gianni ha conferito il Pegaso d'Oro la massima onorificenza della regione alla Savino del Bene Volley, squadra di pallavolo femminile di Scandicci che quest'anno sarà impegnata oltre che nel campionato di Serie 1 anche in Europa con la Champions League. Porta in Europa la toscanità ai massimi livelli, la Savino del Bene è ormai una delle squadre più importanti in Italia, sicuramente parte sempre con l'opportunità e tutte le caratteristiche per poter aspirare ai massimi livelli e quest'anno sarà l'unica squadra toscana che rappresenta il nostro territorio alla Champions League, la massima competizione europea. Il Pegaso d'Oro va così ad impreziosire la bacheca dei trofei conquistati dalla Savino del Bene, attualmente una delle formazioni più competitive in Italia che negli ultimi due anni ha vinto prima la Challenge Cup e poi la Chef Cup fino a ottenere il pass per la Champions League. Siamo molto contenti, è un premio che non ci aspettavamo in tutta franchezza però va a corollario di una serie di ottimi risultati che abbiamo fatto in questi anni e che culminano con la nostra futura partecipazione alla Champions League. Per cui siamo felici, partiamo con un Pegaso d'Oro e speriamo di portare altri trofei a Scandicci e a Firenze. Il prossimo 8 novembre ci sarà l'esordio in Champions al Palavanni contro le Bulgare del Maritza Plodviv. Per questa competizione le giocatrici della Savino indosseranno una nuova divisa con i colori bianco-azzurri e il Pegaso della Regione Toscana sotto il numero di maglia, un modo per portare in Europa la Toscana e il supporto dei tifosi. Questo penso che sia un riconoscimento bellissimo e poter sfoggiare una maglia che ha la Regione Toscana rappresentata e poterla portare comunque all'estero, penso che sia veramente un fatto di orgoglio per la società e per la Regione Toscana. L'8 novembre si inizia, speriamo di farlo con un palazzetto bello pieno che comunque il tifo è veramente un altro giocatore in campo. Grazie per la visione!